Cari colleghi, in settembre molti di voi hanno partecipato al survey che abbiamo voluto fare per ricevere da voi feedback in merito a come lavorate e a come migliorare la nostra azienda. È un survey globale di cui abbiamo ricevuto poche settimane fa i risultati e per prima cosa desidero ringraziarvi per l'alta partecipazione, abbiamo avuto più del 94% di partecipazione. Questa metodologia del survey è una metodologia diffusa in tutte le grandi aziende ed ha l'obiettivo di avere in modo anonimo e input da parte di tutti i indipendenti a come rendere migliore l'azienda nella quale si lavora. Abbiamo visto i risultati, qui voglio darvi un breve feedback e soprattutto farvi vedere quale percorso andremo a fare nei prossimi mesi al fine di indirizzare le aree di miglioramento. Certamente quello che emerge è che vi sono aree in cui ci sono elementi estremamente confortanti come in particolare quello dell'allineamento di tutta la divisione agli obiettivi di business, al forte commitment agli obiettivi della divisione. Vi sono anche però elementi di miglioramento e tra questi ne emergono soprattutto due. Uno è quello relativo all'agility, cioè alla capacità di avere e di lavorare all'interno un'organizzazione che ha la capacità di cambiare rapidamente, di implementare con velocità innovazione, cosa sulla quale ci avete detto chiaramente che siamo non ancora al giusto livello, e l'altro è il tema, quello dello sviluppo delle persone, lo sviluppo delle persone in termini di crescita, in termini di far vedere quale progresso, quale piano di sviluppo ognuno di voi può avere nel lungo termine. Sapevamo di avere aree di miglioramento, ce lo avete confermato, e quindi questo per certi versi è un elemento che potrebbe preoccuparci da una parte, ma è un elemento che ci conforta, perché noi siamo profondamente consapevoli come direzione che dobbiamo e stiamo implementando tutta una serie di azioni finalizzate a trasformare questa azienda. Ho condiviso con molti di voi il Transformation Journey che abbiamo disegnato con i miei riporti, è un percorso di trasformazione della divisione TAX che vede un'attività intensa di cambiamento nei prossimi 24 mesi in cui molti di voi sono coinvolti. Questo piano recepisce e va a recepire molte delle indicazioni che voi ci avete dato con il survey, e andremo a condividerlo con voi nelle prossime settimane in modo tale da potervi dare una risposta puntuale in merito alle esigenze che ci avete sottolineato. Quindi grazie ancora per aver partecipato al survey, grazie dei vostri input e a breve ci ritroveremo insieme per condividere puntualmente i piani di azione che metteremo in pratica.